il bullismo in rete è un pericolo a cui i nostri ragazzi sono esposti ogni giorno può mettere a rischio il loro futuro chiunque può essere un cyber bullo e chiunque può esserne una vittima avviciniamoci al mondo dei nostri figli e prestiamo attenzione al loro comportamento per saperne di più consulta la guida per genitori e adulti di riferimento disponibile su www.famiglia.governo.it contro il cyberbullismo insieme